L'innocente scritto e diretto da Louis Guerrero devo dire che sia stato una vera delizia. Sono andato a vederlo al cinema Rondinella di Sesto San Giovanni. Questa è la quarta regia dell'attore e regista francese. Ahimè non ho visto i suoi film precedenti ma come attore l'ho sempre stimato ultimamente anche nel bel film di Valeria Bruni tedeschi Forever Young Les Amandie che se non aveste visto vi consiglio. In questo caso parliamo di una pellicola spassosa dove c'è del dramma anzi del melodramma ma allo stesso tempo dove si riesce a divertirsi. Potremmo considerarlo anche un lungometraggio on the road perché ci sono degli inseguimenti, c'è una situazione rocambolesca ma prima di addentrarci nello specifico di questo film partiamo dalla trama, dalla semplice e pura sceneggiatura molto fluida secondo me, anche scorrevole, dura un'ora e quaranta e sembra di vedere un cortometraggio di un quarto d'ora. Conosciamo il protagonista che è interpretato proprio da Louis Garrel e cioè Abel che è una guida in un acquario, vive a Lione, sua madre è una sessantenne che fa l'attrice ed è anche insegnante di recitazione e si innamora di un detenuto perché insegnava nelle carceri e quindi si innamora di Michel Ros, di Zem veramente bravissimo nel ruolo di questo detenuto che è stato arrestato per rapina, a distanza di cinque anni viene rilasciato e finalmente può stare assieme alla sua amata dopo averla sposata in carcere. Abel, che proviene da un periodo bruttissimo dal momento in cui sua moglie è morta in un incidente d'auto, diciamo che pensa molto a questa nuova vita della madre, sarà che per l'ennesima volta si innamora di un detenuto, ma per meglio dire diciamo che il protagonista continua a pensare incessantemente che Michel non abbia chiuso con la delinquenza, con la malavita, da lì inizierà a pedinarlo e si dipanerà tutta la storia che non voglio raccontarvi. Vi posso dire che Sylvie, cioè la madre di Abel, è interpretata da Anu Grenberg e secondo me è deliziosa in questo ruolo di una mamma, Agé, ma che allo stesso tempo non ha perso quello spirito, quella freschezza e anche quella voglia di divertirsi talvolta in maniera sopra le righe, soprattutto sempre in perenne contrasto con quel modo di essere riservato, solitario del figlio. Abbiamo anche una bravissima Noemi Merlan, i panni di Clemens, la migliore amica di Abel, che sarà molto importante ai fini della trama per diversi motivi che adesso non sto a dirvi. Da un'idea così semplice ma efficace, ecco che l'innocente prende vita e riesce a divertire il pubblico. Purtroppo in sala non eravamo molti, ma so che lui Garrel ha fatto un bel tour promozionale del film in tutta Italia, addirittura qualche settimana fa era nella mia pistoia, ero qua a Milano, dove se non ricordo male è stato al Beltrade, è stato all'anteo, purtroppo non sono potuto andare, me lo sono recuperato a distanza di qualche settimana dalla sua uscita, ricordiamo che è stato presentato alla 75esima edizione del festival di Cannes, ma è riuscito a convincermi, è riuscito a intrattenermi. Certo, in dei momenti ci troviamo di fronte a delle sequenze un tantino implausibili, bisogna sospendere l'incredulità, sì, ma si va a abbracciare anche quel tipo di cinema vecchio stile, vecchio stampo, dove i sentimenti sono ben marcati ma allo stesso tempo non didascalici o forzati, dove anche la musica accompagna bene ogni momento che la pellicola ci offre. La fotografia color pastello riesce ad essere dolce, delicata e quindi a rendere ogni movimento di macchina sinuoso, c'è una regia decisamente attenta, pulita, puntuale di Louis Garrel che si dimostra maturo dietro la macchina da presa, riesce a dirigere bene gli attori, è un film che parla d'amore ma dove non si vuole in maniera didascalica enfatizzare determinate sequenze che potrebbero essere anche decisamente caricate se dietro la macchina da presa si trovasse un regista mediocre ed invece Louis Garrel è molto preciso, è molto anche abile come attore autodirigendosi a lavorare in sottrazione, quindi non si vuol mai andare in overacting, è una commedia quasi in punta di forchetta, in punta di coltello, dove si riesce a sorridere, dove si riesce anche ad apprezzare delle grandi prove recitative in questa Francia bella dove si è un po' la cupezza e un po' il grigiore che principalmente a livelli a livello di colore prende il sopravvento ma questo grigiore è anche un po' quello che accompagna la vita di Abel che è così abile come guida in questi acquari meravigliosi della Francia dove dietro di lui ci sono degli squali pronti a muoversi ma dovrà affrontare anche degli squali nella vita e quel grigiore è quello che ha dentro, lui è una guida ma avrebbe bisogno di una guida nella sua vita per imparare ad esternare le sue emozioni, i suoi sentimenti, i suoi desideri per aprirsi perché si tiene tutto dentro, è molto diverso dalla madre, quindi vi posso dire di andarlo a vedere, di sostenerlo, di veramente godere di questo bel cinema francese per niente volgare, molto raffinato, molto anche veramente capace di farci capire molto spesso quanto i francesi abbiano una marcia in più anche con delle trame esili ma al contempo mai banali di comunque prenderci, di farci affezionare ai personaggi, io suppongo Siri per favore e io non so perché tu parti mentre io parlo, io sto parlando dell'innocente, perché devi partire? qua e va da sé, per favore dai zittina, ecco meno male non ha professione, sì comunque ecco stavo dicendo meno male, meno male ci sono questi film che riescono ad unire insieme melodramma e divertimento immagino che nel nostro futuro italico cinematografico qualcuno potrebbe pensare di fare un remake dell'innocente, magari ci buttano Andrea Pisani come protagonista e la Colorado Film potrebbe sfornare il remake ma spero veramente di no perché in Italia scarseggiano le idee originali e quindi bisognerebbe imparare dai francesi e non copiare spudoratamente ogni volta, comunque non ho niente contro i remake, lo sapete ma è anche un po' strano che nove volte su dieci in Italia purtroppo nelle sale arrivino esclusivamente rifacimenti di film francesi e spagnoli e chi più ne ha più ne metta io adesso farò una piccola parte spoiler per parlarvi di questo film delizioso, un film veramente simpatico, un film veramente girato con maestria ma soprattutto con intelligenza, una ciliegina sulla torta che mi dispiace non abbia riempito le sale e che non abbia avuto lo stesso successo che in Francia giustamente ha ottenuto. Ragazzi, un caro saluto, vi ricordo che nelle info trovereste tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social, per abbonarvi al canale e che se vi abbonaste ricevereste in cambio dei contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana. Allora, io non ho voluto rivelare più di tanto, però abbiamo Abel che portando avanti questo macigno dentro per il dolore causato dalla perdita di sua moglie, sappiamo in un incidente dove lui stesso guidava la macchina, ecco che vede sua madre così felice nell'aver sposato questo Michel, questo detenuto che ormai da cinque anni è in carcere per rapina, ma ci sarà da affidarsi, la madre è euforica ma è l'ennesimo detenuto che veramente farà battere il suo cuore, va, vediamo un po'. Dal momento in cui Michel esce dal carcere, Abel inizierà a pedinarlo. E noi spettatori ci interroghiamo, ma sarà una persona per bene, perché poi Roj di Zen è stato bravissimo, veramente in parte, ma è un personaggio a cui subito riesci ad affezionarti, ma con quel fare ambiguo e misterioso. Non ci vorrà molto per scoprire, dopo che già la pulce nell'orecchio ci viene messa dal momento in cui si compra questo negozio in pieno centro, bisogna fare insomma i lavori perché vorrebbero Abel e Silvie aprire questo negozio di fiori, ma servono dei soldi, ma un amico me l'ha venduto a pochissimo prezzo, poi sì vuole una percentuale sugli incassi, ma figurati. Ecco che allora Abel inizia a pedinarlo, Clemence la sua amica è sempre lì a dar consigli ad Abel fino a che scopre che insomma Michelle si sta per indirizzare verso un nuovo colpo, verso una nuova rapina. Stavolta dovrebbe rubare del pregiato caviale che viene dall'Iran per poi rivenderlo, guadagnarci, pagare tutti i debiti del negozio e pagare le spese necessarie per aprire, per insomma trascorrere delle giornate in serenità e quindi lì inizierà tutto quell'atto del film dedito all'avventura, cioè se prima Abel è pronto a tornare da sua madre e dirle la verità, Clemence lo ferma e dice ma se tua madre è finalmente felice, ma se tua madre è innamorata, perché devi essere tu a mettere i bastoni fra le ruote? Specialmente nel momento in cui Abel chiede, visto che, anzi dal momento in cui Michelle chiede ad Abel un aiuto, perché c'è questo tizio con dei tic nervosi che nemmeno Jack nel film di Lars von Trier, ogni volta la stessa, la medesima routine, prende i soliti piatti al ristorante, mentre lui è lì che cena, lui, Michelle e il suo socio dovrebbero aprire il furgone, rubare questi carichi di caviale e andarsene, però per far sì che questo tizio resti di più nel ristorante, Abel, tu con Clemence potreste recitare veramente il ruolo del fidanzato e della fidanzata, litigare, attirare l'attenzione di questo camionista che sta portando la merce, così almeno lui resta lì, noi abbiamo più tempo, 40 minuti non ci bastano e vabbè, alla fine sapendo che si dividerebbero 15.000 euro l'uno, non si tirano indietro. All'insaputa di Sylvie della madre inizia tutta questa sequenza che tra l'altro vola, è veramente ritmata, lui garrè dietro la macchina da presa riesce a dare un ritmo così fluido, così ben disteso a questa commedia che proprio tu sei lì, guardi l'orologio e dici ma porca miseria, ma sono già passati altri 20 minuti. Lì bisogna un attimino sospendere l'incredulità perché vediamo i due protagonisti al tavolino, il tizio che sta mangiando succedono delle cose del tipo è finita la bistecca che prendi sempre, vuoi qualche altra cosa, vuoi del pesce, questo è uno metodico, non cambierebbe mai nulla di una virgola, no, passiamo al dolce e il conto, cioè cose normali, mandi un messaggio ai due che stanno facendo il colpo, fatevi veloce, niente di tutto questo, però vabbè, sono paturnie che mi facevo io, inizieranno a litigare e c'è questa, ovviamente falsamente, ma quello che doveva essere così qualcosa di scenico per una pantomima inventata sul momento per attirare l'attenzione del camionista si rivelerà necessaria perché permetterà ad Abel di aprirsi, di comunicare, di rivelare a Clemens tutti quei sentimenti che aveva dentro, ma proprio nei suoi confronti. Lui è innamorato di Clemens ma non ha mai avuto il coraggio di dirlo, perché ormai lei è sempre presa dai ragazzi che trova su Tinder e allo stesso tempo anche lei era innamorata di lui e non vedeva l'ora che Abel si dichiarasse. Quindi hanno tenuto questo macigno dentro per un sacco di tempo e per assurdo questo momento, questo intrecciolo cambolesco di avvenimenti porterà Abel a cambiare. Certo, poi la giustizia fortunatamente farà il suo corso e quindi alla fine, in una sorta di circolo vizioso, sarà Abel ad essere arrestato, sarà Abel a sposare in carcere Clemens con sua mamma che lo segue dietro con la macchina come all'inizio seguiva il nostro Michel con il foglio jetem e la musica a manetta. Quindi tutto praticamente si ripete, il cerchio che si ripete, il film inizia e finisce nello stesso modo se vogliamo, ma questa avventura sicuramente anche dove l'illegalità ha preso il sopravvento ma dove fortunatamente poi la giustizia ha trionfato, una mossa intelligente in sceneggiatura non farà andare bene che il crimine vincesse perché comunque per quanto lui Garrel fosse un po' l'innocente di turno si è prestato, nonostante il colpo non l'abbia fatto lui si è reso disponibile, quindi la giustizia trionfa, fa il suo corso, però è interessante come dagli sbagli si possa imparare e come questo colpo, questa avventura lo abbia portato ad aprirsi, a non essere più quella bel chiuso, così depresso quasi, così anche impacciato di un tempo, è cambiato, c'è stato un passo avanti, aveva bisogno di adrenalina per maturare, per avere questa sorta di cambiamento interiore. Amando Clemens che ricambia questo sentimento con un finale che secondo me è veramente bello dal momento in cui sì, da un lato tu vedi Abel che si sposa, sua madre che torna a insegnare a dei bambini in teatro, ma allo stesso tempo Michelle che ha deluso la madre che sta provando a comunque aspettare quel tempo necessario per riavvicinarsi, sappiamo che Abel abbia scritto una lettera alla mamma, quindi se prima giudicava Michelle, ora che per assurdo si è trovato nella sua stessa identica situazione, ha cercato di vedere l'uomo oltre al pregiudizio, quindi oltre allo sbaglio che c'è, è concreto, è oggettivo, ma mettiamo da parte un attimo i difetti altrui e capiamo in primis quel che c'è alla base, dentro l'animo, dentro il cuore di una persona, tutti si può sbagliare, giustamente Michelle ha pagato, dovrebbe pagare ancora di più, comunque è stato lui a fare il colpo, ma sicuramente già il prendersi un proiettile in una coscia gli ha fatto capire quanto quella vita sia impossibile, sia una vita pessima, sia una vita atroce, quindi il film non vuol poi finire a terra lucevino, tutto è bene, quel che finisce bene, Michelle ha ritrovato Sylvie, no, passo dopo passo si vedrà quale sarà il futuro, perlomeno il pubblico se lo può immaginare. Ci sono dei continui momenti di dolce amaro, un dolce amaro, un aspro accompagnato poi dal dolce che riesce a deliziarti, che riesce a non nausearti e nemmeno a farti ritenere però insoddisfatto, perché comunque la vita è una continua altalena, un attimo siamo in alto, il momento successivo in basso, questi up and down in cui si ritrova a vivere Abel, ma stavolta con un amore, con questo sentimento che è stato finalmente tirato fuori, gridato, lui si sottraeva finalmente, butta fuori, piange finalmente con quella pacatezza, con quella delicatezza, con quella dolcezza, tira fuori quello che aveva nell'animo, quello che aveva nel cuore. Proprio un bel film che vi consiglio, di cui sarò curioso di parlare, quindi fatemi sapere nella sezione commenti se l'aveste visto, cosa ne pensate e niente, noi poi ci vediamo ad un prossimo video, ma mi ritengo proprio soddisfatto dopo la visione. Ciao ciao ragazzi!